Blitz antidroga della DDA A partenopea Benevento contro il clan Sparandeo Questa mattina 10 persone sono state arrestate dagli agenti della squadra mobile di Benevento Le ipotesi di reato contestate a vario titolo vanno dall'associazione per delinquere di stampo camorristico Finalizzata allo spaccio di stupefacenti fino alle estorsioni Folta partecipazione questa mattina al corteo degli ambulanti dinanzi alla prefettura di Avellino Per manifestare contro la decisione del sindaco Festa di spostare il terminal allo stadio E trasferire il mercato altrove Festa attacca i sindacati, non fanno l'interesse dei commercianti E ribadisce il mercato si terrà a valle solo con chi è in regola Riunione alla Rocca dei Rettori questo pomeriggio Per affrontare il nodo della crisi aperta dai quattro consiglieri di gas Che hanno abbandonato la maggioranza Di Maria fa valere le sue prerogative da monocrata Mentre dall'opposizione Carofano ribadisce la lealtà nei confronti dei territori e nessun accordo politico A Benevento continuano gli sforamenti delle polveri sottili Nei primi 12 giorni del 2020 per ben 7 volte i livelli oltre la soglia stabilita dalla legge La Commissione Ambiente stila un calendario di chiusura al traffico in vari punti della città L'esperto, le categorie a rischio sono le persone affette da broncopatia cronica e asma bronchiale Ben trovati, ben trovati a questa nuova edizione del Lab News DDA e Questura di Benevento assestano un colpo duro al sistema criminale definito dal clan Sparandeo Due anni di indagini, 10 arrestati, smantellato, un vasto traffico di droga e ridotto il racket delle estorsioni in città 10 persone arrestate, un colpo duro al racket delle estorsioni al traffico di droga a Benevento E più di tutto un'intera organizzazione criminale smantellata da parte della DDA di Napoli e della Questura di Benevento L'azione degli investigatori si è concentrata sul clan Sparandeo e loro affiliati E per tutti i reati ipotizzati sono di estorsione e traffico di sostanze superfacenti aggravati dal metodo mafioso Il 416 bis, cioè l'associazione a delinquere di stampo mafioso è stato riconosciuto per il corrado Sparandeo, Carmine Morelli e Vincenzo Poccetti le menti del sodalizio criminale che gestivano illecitamente anche il parcheggio nei pressi dello stadio taglieggiando i parcheggiatori regolari, anche quelli privi di autorizzazione a svolgere la mansione Due anni di indagini meticolose con l'ausilio di sofisticati strumenti di intercettazione ambientale per sgominare una banda che non lesinava sistemi violenti per imporre le proprie regole criminali Una vicenda che denota lo spessore delinquenziale degli arrestati Un'indagine che il questore Bonagura definisce determinante nella diuturna lotta alla criminalità organizzata che anche nel Sannio prolifica e mette radici È un'ottima risposta che diamo al territorio, alla città di Benevento per garantire la sicurezza, la tranquillità di tutti È un lavoro che ha portato i suoi frutti una bella risposta che spero possa consentire di vivere ancora più serenamente in questa bella città È ancora in corso l'indagine oppure si può considerare terminata? Le indagini non sono mai concluse del tutto perché poi ovviamente ci possono essere degli sviluppi successivi per cui io direi che in questo momento stiamo ancora lavorando e dobbiamo ancora effettuare qualche approfondimento quindi non escludo che possa esserci un seguito anche se al momento non è previsto È scontro tra comune di Avellino e commercianti secondo i quali il sindaco avrebbe dovuto lasciarli lavorare nel piazzale dello stadio fino allo scadere dei vecchi accordi Giornata convulsa da Avellino sulla vicenda mercato con lo sciopero e il sit-in degli ambulanti davanti al comune il contrasto con il sindaco Gianluca Festa che si acquisce è la prefettura che non prende una posizione ma si propone come mediatrice tra le parti La manifestazione partita da Campetto Santa Rita si è presto spostata nei pressi di Palazzo di Città dove una delegazione di commercianti e sindacalisti ha chiesto di incontrare Festa ma quando il sindaco ha fatto sapere di voler parlare separatamente con ambulanti e parti sociali gli animi si sono inaspriti e al grido sindaco bugiardo e il mercato non si tocca il corteo si è portato davanti al Palazzo di Governo bloccando per pochi minuti il traffico in Piazza Libertà diversi i momenti di tensione qualcuno chiede il rispetto del vecchio contratto che prevede l'utilizzo dello stadio fino al 2021 Il sindaco non si sa da che viene delle comandate e non si sa questo spostamento perché la sera mattina ha deciso di togliere 400 famiglie dallo stadio per non sapere che era uscita a me a mangiare giusto? Ma non sono 400 famiglie perché ogni furgone mangiano loro e tre famiglie è una scusa dei pulmani è tutto che ci chiamiamo per le fondelle per me è una scusa per i pulmani che si fa là dentro? Allora rispetto all'area fino al 2021 come era fatto il contratto tempo fa trovi un'altra area l'area non ci vuoi mettere però non dimenticare di fare bagni e bagni per i sabboli non dimenticare i parcheggi non di dimenticare altre cose e darci da vivere come stiamo campando una vita in coppomercato mentre altri chiedono rispetto della categoria è un confronto chiarificatore è un fascista non è un democchio cioè non lo so noi siamo andati civilmente abbiamo fatto una protesta sindacale civile l'abbiamo programmata non ci hanno nemmeno ascoltati ma vogliamo parlare e discutere di questa situazione di questo mercato la situazione mercato ad Avellino i commercianti compatti vanno avanti per la loro strada e passano alle vie legali mentre il sindaco Festa svela le cifre delle cartelle Tosa a pettari da pagare ambulanti e amministrazione comunale fermi sulle loro posizioni siamo ormai al muro contro muro nelle more della consegna di Campo Genova quale nuova sede del mercato infatti la possibilità concessa dal sindaco in verità all'ultimo momento visto che l'ordinanza della municipale di ieri pomeriggio di allestire questa mattina il mercato a Rione Valle non è stata colta lanciando così un segnale di compattezza tutti infatti hanno disertato l'area messa a disposizione dunque si va avanti nello scontro e il ricorso al Tata sulla sospensione del mercato davanti allo stadio sarà depositato nelle prossime ore anche se ci fosse stato qualcuno che voleva e che magari ha bisogno in questa fase di lavorare non sarebbe nemmeno mai potuto organizzare perché poi diciamo stamattina non si è capito chi poteva andare chi non poteva andare dove doveva montare tant'è che abbiamo la dimostrazione che a Rione stamattina non c'è nessuno la richiesta è quella dalla quale siamo partiti cioè praticamente noi così come faremo anche con i nostri legali chiederemo la sospensiva dell'ordinanza che ha sospeso il mercato chiedo scusa per il gioco di parole e nelle more diciamo della sospensiva eventualmente gli operatori finché non sarà posta una alternativa che sia concordata con le parti da parte sua festa non fa una piega e in conferenza stampa spiega le sue ragioni partendo dall'annuncio fatto a luglio sullo spostamento del termine del bus da piazza Kennedy al piazzale dello stadio dalle morosità trovate sulle quali non transige e dalle false verità raccontate da qualche sindacato ai suoi iscritti sull'intera vicenda abbiamo trovato una morosità di un milione di euro e non possiamo noi andare a sgomberare gli alloggi comunali perché la gente non paga i fitti case comunali e non possiamo chiedere il pagamento ai commercianti ai cittadini le tasse se poi da un lato c'è una categoria che ha una morosità di un milione di euro e qualche sindacato ha detto agli esercenti non pagate c'è il ricorso non pagate e oggi non può dire che quell'affermazione ha reso morosi gli esercenti chi pagherà anche attraverso la richiesta di rateizzazione la morosità avrà diritto a entrare nel mercato il campo Genova parte a dicembre perché per la grande disponibilità dell'amministrazione la voglia di confronto che il vice sindaco ha messo in campo abbiamo atteso tre mesi questo pomeriggio alla rocca dei rettori vertice tra il presidente di Maria e consigliere per trovare una via d'uscita politica all'impasse dovuto ai quattro consiglieri dissidenti del gas una riunione senza il gas che detto così potrebbe sembrare una freddura alla rocca di faceto c'è assai poco in questo momento e il confronto di questo pomeriggio in assenza dei quattro dissidenti Mucciacciaro Parisi Cataude e Paglia quanto meno ha sortito la non belligeranza politica della minoranza e la volontà comunque di andare avanti e di assolvere ai tanti impegni che ci sono da affrontare nessun accordo politico tiene a precisare il sindaco di Telese Carofano ma lealtà verso i territori per me quello che conta è l'interesse delle comunità amministrate quindi l'interesse dell'intero sannio e quindi la mia disponibilità così come ho dichiarato l'altra volta ci sarà su temi concreti ed importanti di buon senso invece parla è il sindaco di Faicchio Nino Lombardi io mi auguro che il buon senso rispetto a un'istituzione che già ha subito tanto da un punto di vista normativo ma che è importante a livello sovracomunale più di tante altre istituzioni per noi comuni e per noi sindaci che stiamo sul territorio ecco mi auguro che ragionalmente a breve si possa definire Di Maria presidente monocratico ci sono da approvare importanti passaggi e allora il presidente annuncia la sua azione al termine del tavolo abbiamo dato mandato alla struttura tecnica di predisporre nel modo più celere possibile il bilancio delle opere pubbliche che è uno dei documenti essenziali per poi arrivare all'approvazione del bilancio Livio Petitto riferimento di Ora Avellino si prepara alle elezioni regionali organizza una seconda tavola rotonda sulle aree interne sentiamo welfare e politiche per il benessere economico all'abbazia dell'Oreto l'appuntamento organizzato da Ora Avellino dal titolo connettiamo l'irpinia per parlare dello status quo in un settore fondamentale della vita quotidiana dei cittadini ma soprattutto guardare avanti cercando nuove soluzioni per il futuro risposte che devono essere date dalla politica e che il partito democratico e l'area del centrosinistra a cui esso fa riferimento devono guardare anche in ottica delle prossime regionali al tavolo tra gli altri l'ispiratore dell'associazione della lista che ha contribuito alla vittoria del sindaco Gianluca Festa Livio Petitto candidato in pectore dei DEM ma almeno per quanto riguarda l'area dei Cariana insieme all'ex parlamentare Giuseppe De Mita non è che organizzo convigni con Giuseppe di Sivita Giuseppe De Mita per ascoltare le opinioni di tutti nei prossimi incontri ci saranno altri esponenti di altri partiti così continuerà il ciclo non c'è nessun sodalizio predefinito assolutamente ognuno continuerà a fare la politica per il territorio ci sono rapporti cordiali che continueranno al di là delle appartenenze per quanto mi riguarda io sono del partito democratico e quindi cercherò di candidarmi nel partito democratico se il partito sceglierà me per quanto riguarda la posizione apicale e la candidatura apicale del governatore attenderemo quelli che saranno gli svolti della segreteria regionale del lavoro della segreteria regionale con quella nazionale la necessità di condividere un percorso un progetto politico che ci veda protagonisti perché l'Irpina deve essere posta al centro di qualsiasi dibattito politico nella regione Campania Giuseppe De Mita annuncia la nascita di un nuovo movimento politico la formazione potrebbe partecipare già alle prossime regionali la politica come servizio alla comunità ma soprattutto come fonte di risposta ai problemi che ancora attanagliano la società l'ex parlamentare ed esponente dei popolari Giuseppe De Mita annuncia la formazione di un movimento politico nuovo che potrebbe anche trasformarsi in lista alle prossime elezioni dialogo aperto con tutti dal centro-destra al centro-sinistra con un netto distinguo rispetto a ciò che è diventato ora il PD noi siamo completamente strani alle vicende del Partito Democratico a dinamiche interne molto confuse e sicuramente non ci infiliamo in una discussione che non ci riguarda siamo impegnati nella ricostruzione di un movimento politico autonomo che riesca a misurarsi con le condizioni del presente in questo percorso dialoghiamo con tutti quelli che hanno la voglia e il desiderio di farlo direi a sinistra come a destra per De Mita benvengano le convergenze sui contenuti altrimenti nessun problema a mantenere una posizione autonoma se poi si costruiscono le condizioni di dialogo credo che sia un bene ma in assenza di queste condizioni io in astratto non escluderei una posizione del tutto autonoma anche dal punto di vista delle candidature non si fanno le elezioni regionali per far vincere uno si fanno le elezioni regionali per affrontare i problemi della Campania noi ci mettiamo in questa posizione infine sulla candidatura governatore della Campania nicchia su De Luca ma in qualche modo ne giudica l'operato De Luca può essere stato il migliore governatore della Campania dopodiché se noi andiamo in giro per la Campania e interroghiamo i cittadini nessuno farà il conto di quello che è stato fatto perché ciascuno ha ancora qualcosa da chiedere nel senso che le ragioni del disagio sono così profonde che non possono essere risolte nel giudizio di quello che è stato ma vanno risolte nella proposta di quello che potrà essere la polemica dopo le dichiarazioni dell'onorevole Marione all'indirizzo del presidente della provincia di Maria sulle prime si pensava ad un'azione legale da parte della Rocca ma di Maria smorza i toni e replica politicamente vorrei chiedere all'onorevole Marione perché non si impegna un po' in più nel suo mandato come parlamentare magari dicesse un po' ai cittadini della provincia di Benevento quali sono le sue attività parlamentari quali sono le proposte di legge che ha fatto quali sono le interrogazioni che ha portato a termine quali sono gli emendamenti che ha fatto per il territorio del sannio quali sono le opere che sta portando avanti portando le polvere a termine non soltanto annunciarle quindi ritengo che l'efficienza di un amministratore si valuta sulla concretezza e sugli atti portati a termine dicesse quali sono quelli che ha portato a termine a Benevento in 12 giorni per ben 7 volte si sono registrati sforamenti del livello delle polveri sottili la commissione ambiente del comune ha previsto un calendario di stop alle auto una media da primato ma in negativo a Benevento questi primi giorni del 2020 sono all'insegna dello smog e dei continui sforamenti delle polveri sottili in 12 giorni per ben 7 volte la centralina posizionata in zona stadio ha fatto registrare valori di PM10 oltre la soglia stabilita dalla legge fissata a 50 microgrammi per metro cubo di queste 7 volte ben 5 sono state consecutive dal 7 al 12 gennaio in precedenza il 3 gennaio lo sforamento massimo 180 microgrammi quasi 3 volte oltre il limite va leggermente meglio nella centrale via Mustilli dove gli sforamenti si fermano a 5 4 dei quali consecutivi considerando che il valore giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo non può essere superato più di 35 volte nel corso dell'anno i numeri che si rilegistrano nella cittadina sanita preoccupano e non poco il sindaco Mastella negli scorsi giorni ha anche ipotizzato in ottica futura un giorno in meno per gli studenti saniti in modo da tenere spenti i caloriferi degli istituti un giorno in più ma nell'immediato si partirà con le giornate ecologiche e lo stop alle auto a stabilirlo a Commissione Ambiente che ha stilato un calendario di chiusure al traffico per 12 domeniche una al mese e la prima il 26 gennaio al rione Libertà lato chiesa della Dolorata l'obiettivo principale è di limitare l'inquignamento atmosferico ma con questa iniziativa sottolinea Romilda Rombardi presidente della Commissione Ambiente ci si pone anche l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione e la riduzione graduale dell'uso delle automobili almeno la domenica una giornata in cui comunque gli impegni sono minori e quindi utilizzare o mezzi alternativi meno inquinanti come le biciclette oppure appunto camminare a piedi e non prendere l'auto la presidente inoltre fa sapere che nelle prossime sedute della Commissione saranno vagliate ulteriori misure atte a ridurre per quanto possibile il fenomeno dell'inquinamento atmosferico cercando però di evitare un ulteriore onere ai cittadini che già diciamo devono affrontare molte spese tra tasse e rifiuti eccetera quindi dobbiamo valutare se c'è una possibilità per il Comune di fare un controllo sulle caldaie senza però andare contro i cittadini lo sforamento delle PM10 a Benevento i rischi per la salute abbiamo sentito il dottor Donato Maiella pneumologo la questione dello sforamento delle polveri sottili a Benevento comincia a far preoccupare davvero un fenomeno in aumento soprattutto in questi primi giorni del 2020 sette giorni su 12 le polveri sottili e quindi l'inquinamento da smog proveniente da scarichi di automobili e riscaldamento hanno sforato l'asticella del limite massimo la soglia stabilita dalla legge è fissata a 50 microgrammi per metro cubo ed è stata superata di quasi tre volte con quota 180 microgrammi il rischio per la salute riguarda tutti con maggiore attenzione per le persone affette da broncopatie croniche come afferma il dottor Donato Maiella pneumologo le polveri sottili sono una frazione in cui si classifica il particolato cioè il particolato il materiale presente in un'atmosfera che in forma di particelle microscopiche perciò sottili diciamo che quelle interessanti ai fini della salute sono queste famose PM10 PM10 praticamente hanno una grandezza di 10 millesimi di millimetro più piccole sono le particelle più arrivano in profondità le malattie diciamo che possono peggiorare sono quelle già croniche dell'apparato del pirotorri della broncoprile patria cronica costruttiva l'asma bronchiale incitano queste polveri per la verità incitano anche poi sulle affezioni cardiopolmonarie e diminuiscono praticamente tendono a diminuire la funzionalità polmonare sarebbe opportuno scegliere per esempio dei percorsi a minor traffico Siamo allo sport le ultime del Benevento in vista dell'incontro col Pisa ce ne parla Domenico Passaro Dopo il lunedì concesso per staccare la spina dalle fatiche romane il Benevento è tornato a lavoro all'Embriani nel pomeriggio per aprire la settimana di allenamento in vista del primo impegno dell'anno con il Pisa e il primo allenamento di fatto nel Sannio per Gabriele Moncini al momento l'unico volto nuovo di questo mese sotto la stretta osservazione del tecnico Pippo Inzaghi che difficilmente rinuncerà a coda nonostante le incertezze di mercato ma con ogni probabilità sarà concesso contro il Pisa qualche minuto a gara in corsa al neo arrivato intanto il tecnico attende novità proprio dal mercato che riguarda il difensore perché entro questa settimana bisognerà aver chiaro il quadro su all'intosca altrimenti scatterebbe il piano B con diversi profili già individuati dal DS Foggia a partire da Vasco Regini passando per Federico Barba sul campo Maggio e compagni proseguiranno mercoledì in agenda una doppia seduta di lavoro è stata una mattinata piena di impegni per l'Avellino Calcio in prefettura a vertice sulla questione stadio da Tripalda giornata solidale è stata una giornata intensa in casa Avellino non solo la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di domenica a Teramo ma una mattinata divisa tra questione stadio e vicende societarie in prefettura si è riunita la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per fare il punto della situazione sui lavori che devono essere eseguiti nell'impianto di contrada Zoccolari la prima criticità restano i sediolini dobbiamo presentare un mini progetto affinché venga approvato naturalmente e poi provvederemo all'installazione poi c'è bisogno di fare delle prove di carico delle balaustre dello stadio per evitare che queste siano a norma e un restyling completo dei bagni perché alcune criticità sui bagni ci sono e naturalmente creano non pochi problemi di ordine pubblico previsto una riunione a stretto giro per i sediolini già abbiamo raggiunto un'intesa il sindaco e l'assessore Giacobbe ci hanno dato apertura e il dirigente ci hanno dato apertura per lavorare in sinergia quindi lavoreremo sicuramente in sinergia nell'assessore ad Atripalde il presidente Izzo insieme al direttore sportivo Carlo Musa e il centrocampista di Paolo Antonio ha fatto visita ai bianconieri insuperabili queste sono le giornate che dovrebbero far capire a tanti cos'è il calcio e qual è il potenziale del calcio ha sottolineato il dirigente Biancoverde che poi si è soffermato sulle vicende societarie noi siamo tranquilli vorremmo essere soltanto messi in condizione di poter lavorare voglio dire una società che è arrivata da un mese abbiamo credo già affrontato problemi che magari un presidente deve avere in dieci anni quindi vorremmo fare calcio questo è quello che ci interessa trovare ogni giorno comunque un qualcosa che non ci permette di lavorare serenamente alcune sono un pochino strumentali altre vengono veramente amplificate diventa non dico demoralizzante però non è questa l'avellino che io non credo sia la vera l'avellino questa qui vi ricordo l'appuntamento di questa sera con speciale Lab News alle ore 21 parleremo dell'ultimo libro di Filippo Rossi dalla parte di Gekile adesso c'è il meteo regionale Muoversi in Campania grazie per essere stati con noi buonasera il meteo è presentato da di Filippo Rossi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.